MUTE! Vincolari! Loudweb! MUTE! Makarov? Le voci corrono! Solo quando lo vuole lui! Credi che lavori col Cremlino? Non mi sorprenderebbe. Un mio contatto forse conosce la risposta. Mi serve un passaggio. Dove? Base militare Arlov. È sorvegliatissima. Puoi farcela? Per fermare Makarov? Certamente. Ho solo bisogno di entrare e uscire. Potrebbero esserci problemi. Sono specializzato in problemi, Laswell. È questo che mi preoccupa. Chi è il tuo contatto? Yuri Volkov. Yuri è sul libro paga. Non ha preso un soldo. Yuri è così. Quando partiamo? Direi ora. Niente male. Dobbiamo volare passi. Sotto i radar. Esatto. Manca un miglio. Non farti scoprire. Toccate fuga. Ti chiamo io. Roger. Il giudice. Viola. Non parla. Chi sono! È rimanga! Ritenuto. Oh no! Oh no! Watcher e Yankee, vedo la base, mi sto avvicinando. Ho ricevuto, Watcher. Adesso si fa sul serio. Mantieni un profilo basso. Non scondo l'arma. Brava. I silenziatori sono roba da assassini. Questa è una missione diplomatica. Roger, difficile muoversi in una base nemica disarmati. Hai ragione. Yuri ti ha inviato alla sua posizione. Affermativo. Edificio amministrativo di Arcloth, vicino all'angar. C'è una parabola satellitare sul tetto. Ricevuto. Parabola sul tetto. Yuri non avrà molto tempo quando si accorgeranno che non c'è. Faremo in fretta. Nessuno di noi due può permettersi di farsi scoprire. Conosco bene, Arcloth. Farò del mio meglio per aiutarti. Mi sto avvicinando all'ingresso, Nick. Adesso devi entrare. Un edificio amministrativo sul retro della base. Ci sono molte guardie e bandiere sulle porte. C'è un problema? Per entrare serve un tesserino di sicurezza. Per fortuna sei una spia. Scommetto che ne troverò uno su un ufficiale. Probabilmente chiunque entra o esce ne ha uno. Ottima idea. Cerca un ufficiale uscito dall'edificio. C'è un maggiore che sta uscendo. Non è solo. Aspetta che resti solo e fa ciò che devi per prendergli il tesserino. Il maggiore si è lontana. Sale le scale verso un ufficio. Potrebbe essere un buon posto per sorprenderlo. A terra. Aspetta che resti solo e fa ciò che devi per prendergli il tesserino. Ehi, maggiore si è lontana. Sale le scale verso un ufficio. Potrebbe essere un buon posto per sorprenderti. Cosa non va. Ehi, che voi tu ti facciano? Voi i documenti. A terra. Laswell, hai recuperato il tesserino per entrare nell'edificio. È stato un sacrificio necessario. Andava fatto. La colpa è di Makarov, non tua. Spero che Yuri sappia qualcosa di utile. Ci sono. Yuri si trova in un magazzino. In fondo al corridoio sulla destra dell'ingresso. In fondo al corridoio, a destra dell'ingresso. In fondo al corridoio, a destra dell'ingresso. In fondo al corridoio, a destra dell'ingresso. Ci sono. Yuri. Watcher. Sono colpito, ma non sorpreso. Problemi? Diversi. Danni collaterali? Spero valga il loro sacrificio. Che cos'hai? Un file sulla ricerca di Barkov. Armi chimiche. Da soldato, Makarov era... molto affascinato da loro. Sono neutralizzabili? È tutto ciò che sappiamo. Perché? Russi e occidenti hanno nemici simili all'inverno. Dobbiamo assolutamente collaborare per controllarli. Il nemico del mio nemico è mio amico. Nikolai sarebbe di sicuro d'accordo. Esatto. Un vero patriota. Il Kremlino non c'entra con le armi chimiche. Non vuol dire che Makarov non lavori per Mosca. Ci sono estremisti in entrambi i nostri governi. Un'esercitazione. Un'esercitazione. Per ora, attacco missilistico, testate chimiche. devi salire c'è il corpo che va a essere detto per l'estrazione Roger, vado sto salendo Nick, ci sei? non so in bolla, non so se stanno morendo sbrigati l'anuel, il warrior è contento negativo, ci siamo divisi spero che ce la faccia salgo la scala sbrigati l'anuel, il cazzo sta morendo sto ancora salendo Nick, aspettami certo l'upper, l'asperigato l'upper, ti vedo sei bene? sei bene, non c'è ne da 3GP